Ho bisogno della mia fidanzata, della mia famiglia, della mia vita di nuovo, che non è questa, non mi piacciono i reality, non so per cosa, sono venuto qua di nuovo e mi ero dimenticato, non sono la persona adatta per i reality, voglio tornare a casa. Eremia, ti faccio parlare con Deborah che è qui, con noi. Ciao Deborah. Amore. Ciao amore. Non riesco a parlare. L'ho detto che così non posso parlare neanche. Guarda amore, sinceramente vorrei anche io che tornassi a casa perché sta veramente passando un messaggio sbagliato, ti dico solo che chi ti conosce... Ma quello è un messaggio sbagliato, sì. No, che chi ti conosce sa la persona meravigliosa che sei e... A me non interessa di quello che pensa la gente, è solo che non sto più bene, voglio stare con te e voglio tornare a casa. Amore, ovviamente ti vedo che stai male, sto male anch'io, sto troppo male, mi manchi da morire. Vorrei averti qui, però dai amore sei lì, è un gioco, divertiti e prima o poi finirà, dai amore. Grazie. 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 Grazie.